www.mesmerism.info 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 e la mia famiglia cammina non capisco dove stanno spettando in questa casa c'è alcool e perchè alcool? in italiano c'è alcool e lo capisco arabe Gianni no, a me mi fai male anche tu devi rapire, come te li hai smontato non lo sapevo io sono anche sempre per sotto buongiorno è stata la cena in due bar ma tu stai in tre, sono un bucato è stata zitta che faccio i mafi fino a la villa oh che ti ammina cammini ma non mi è crescita la musica ma state tranquillo lasciami sì mi sono finito a fare la cosa si pensa no? si a passare niente a passare non potete mai troppare lo cavallo chi chi oi chi chi oh Gianni puriglio Gianni vega una luce maronno mamma lo calma Gianni è sempre più forte e c'è il mio padre che sta chiamare siamo morelli giovanotti giovanotti Gianni ma che stavo sullo principe da so? e che principe è principe per bacco chi vi ha fatto di noi adesso chiama il maestro? eduardo 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 ma che state? che sono questi strutturi? ci stanno questi due scuizzi per favore parlaci tu ci parlo io ci parlo io ci parlo io a voi che ti ha fatto entrare? che cosa volete da qua? maestro ci ci dovete scusare noi stavamo soltanto curiosando maestro ci hanno detto che a casa stavo un spirito perciò ci metterà su? si si un spirito in italiano l'alcol eh facciamo un ucino facciamo siete soliti giovani paterni scostuati eh ma quindi maestro voi tutti siete sempre stati qui a basciare la caiole? eh non si capisce a vero bene se ci diamo a noi la preghiava la roba e gli aguali nati sono sempre stati un po' la cittadina e la politica fa fare troppa confusione fra cultura e barzelletta doveva esicurare più l'educazione l'educazione che noi abbiamo lasciato è vero 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 ma mi chiede apposta uno dice su sui ragazzi su sui ingenue c'è voglio io posso solo darvi un consiglio c'è tornata tutta il sede vichina c'è cercata di fin Napolitan mi Napolitan è c'è 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 me d'animo c'è 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 con giud di i sc c'è d'un